Buongiorno, mi chiamo Elena Veronesi della Creative Park SRL, sono il direttore creativo della società e mi occupo prevalentemente di consulenza in ambito visivo, consulenza in marketing. Se dovessi dare un consiglio alle imprese, alle aziende in questo periodo, suggerirei di puntare sulla formazione. La formazione è uno dei settori principali per lo sviluppo aziendale, soprattutto perché permette di acquisire quelle competenze che un domani consentiranno agli operatori di riuscire a cogliere le occasioni che magari in molti casi ci si lascia sfuggire proprio perché non si riesce a carpire la vera potenzialità di tale momento, di tale evento o di tale occasione. Per cui penso che puntare sulla formazione possa essere uno degli asset che farà migliorare.